Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Perturbazioni in arrivo sull'Italia con peggioramento per queste diverse regioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 6 aprile. Pioggi e acquazioni diffuse al mattino su Sardegna. Nuovolosità in aumento sul nord-ovest e settori tirrenici, ma con tempo asciutto. Solo i prevalenti altrove. Al pomeriggio precipitazioni che interesseranno soprattutto Sardegna e regioni del centro, con neve oltre 1.400 metri sui rilievi. Deboli fenomeni anche sulle Alpi, più asciutto altrove. In serata e nottata, ma il tempo che si sposta gradualmente verso il sud con piogge sparse e anche temporali specie su Campania e Calabria. Temperature minime stazionarie o in rialzo e massime in cala al centro-nord e in aumento al sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.